se so dove? ecco lì, ecco lì mamma mia mamma mia, è grande è bello, io non so se riesco a stare qui li ando non vedo nulla guarda, guarda no, no, bellissimo aspetta, aspetta fermati, fermati, fermati guarda, guarda da sotto, guarda, si vede da da sotto venga, eccolo no eh, perci dai, venite fuori, ragazzi, vi prego fermi basta che non ci salti, non so no, no, si è spaventato guarda, ma sono qui sotto, cazzo ma si vede? ma che... e che è il riflesso? come è giocato la nostra? ma è giocato la nostra mi caco un po' nelle bracche, io te lo dico guarda, guarda, guarda piano, 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 tu gli spaventi fermi, 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 fermati fermi, fermi ciò non è spiagno bellissimi spettacolari su che gli intendo? uno due tre guarda niente ecco lì qui qui sono piani ancora, eccoli, eh sono sempre lì, sono sempre su si vede, si vede, eccoli eccoli, eccoli piano, piano eccola ancora, eh, ora riesca pronti, rena? eccoli portandomi da quella d'altra scena piano, perché si sta andando sulla sua traiettoria poverini, si sta rompendo i due anni, le persone ragazzi, sono vicinissimi, cazzo eccoli, eccoli sono vicini sono bellissimi ma no, sono scesi in profondità guarda che meraviglia oh che belli ragazzi ma io